Fare centro è l'operazione della squadra mobile dell'Aquila, iniziata un anno fa, che ha permesso di dare un duro colpo al traffico di stupefacenti all'Aquila. Due persone, di cui un aquilano di 46 anni, sono finite in carcere, mentre cinque persone sono ai domiciliari, cittadini stranieri di nazionalità albanese, macedone e romena. Ci sono altri due indagati che la polizia sta ancora cercando. Nel corso dell'operazione sono state documentate dagli agenti oltre mille cessioni di droga che avvenivano in un appartamento al primo piano nella centralissima via del Guasto. Sei di loro dovranno pure rispondere di associazione a delinquere finalizzata allo spaccio di cocaina. L'operazione è iniziata, come si diceva, nell'estate del 2017, quando gli agenti dell'antidroga notarono un movimento sospetto in quella via, dove nei pareggi ci sono anche diversi locali notturni della movida aquilana. Infatti lo spaccio avveniva prevalentemente nel fine settimana, 25-30 cessioni a sera. Attraverso le intercettazioni telefoniche ed ambientali e con i pedinamenti, gli agenti hanno poi accertato una fiorente attività di spaccio, realizzata da quella che era una vera e propria organizzazione criminale, in cui i ruoli erano ben distinti. Il capo era l'arrestato di nazionalità albanese. I clienti, dopo aver preso accordi usando anche WhatsApp, entravano nell'abitazione, bussando alla finestra della casa che uno degli arrestati aveva in affitto. Lì avveniva la cessione e in alcuni casi i clienti consumavano la droga direttamente sul posto, ignaro ovviamente il proprietario di casa e anche gli altri condomini. Il prezzo di ogni singola dose era di 50 euro per mezzo grammo. Un'attività investigativa complessa, lunga e difficoltosa che si è protratta dall'estate del 2017 fino a quella del 2018, quindi quasi un anno di attività investigativa. Questa attività ha consentito appunto di individuare e smantellare un'organizzazione criminale dedita al traffico di sostanze superfacente, in particolare cocaina. Queste 9 persone, di cui 6 sono state riconosciute facenti parte di questa associazione criminale, le altre 3 sono state indagate e attinte da misura semplicemente per le cessioni che hanno effettuato. Parliamo di molte, molte cessioni, di migliaia di cessioni documentate che durante l'anno sono state appunto svolte da queste persone che vendevano cocaina, dosi di cocaina, la dose di mezzo grammo, venduta a 50 euro e vendevano questa cocaina a varie persone, a tantissime persone che si rifornivano da queste persone. La base logistica dell'attività è in via del Guasto, in un appartamento di via del Guasto scelto anche per la sua posizione strategica centrale nel contesto aquilano e quindi facilmente raggiungibile anche a piedi dalla cittadinanza. Molti riscontri effettuati, arresti effettuati anche durante le indagini per cui quando abbiamo avuto la certezza di cessioni a cui abbiamo assistito abbiamo proceduto all'arresto, al riscontro, droga sequestrata e appunto 9 misure cautelari di cui 3 in carcere e 6 agli arresti domiciliari. Oltre a questi arresti, altri ce ne erano stati in singoli episodi di cessione, racconta la mobile. La droga proveniva dal mercato romano e la clientela era molto variegata, clienti a volte anche giovanissimi, uomini di mezza età. La composizione sociale e anagrafica degli acquirenti è la più varia. Passiamo dal 17enne al 50enne e di varie persone impiegate in varie attività lavorative. Grazie.